Avvio ufficiale della stagione di prosa del Teatro della Fortuna di Fano, mettendo in comunicazione il mondo dei giovani attraverso le scuole e i protagonisti della prima rappresentazione in cartellone per questa stagione 2015-2016, l'Enrico IV di Luigi Pirandello. Nella sala verdi del teatro, l'attore ed aiuto regista Antonio Zanoletti si rivolge direttamente agli studenti, parlando della bellezza del teatro, dove ciò che si rappresenta è la realtà. La vita vera, i sentimenti si fanno voce e le emozioni prendono corpo attraverso gli attori. Tutto un'altra cosa rispetto alla rete e le altre forme di comunicazione dove tutto è più effimero. Che allestimento è quello che presentate qui a Fano? È piuttosto insolito, perché già dalla scenografia si intuisce che c'è una scelta totalmente diversa. La scenografia rappresenta, oserei dire, lo stato emotivo del protagonista. È nella sua testa. Il protagonista per una caduta da cavallo è rimasto convinto di essere l'Enrico IV germanico. E la caduta da cavallo è all'ossessione delle facce, dei cavalli. Quindi è come se avesse fissato questa immagine e sulla scena ci saranno queste, quasi onirico come spazio, dove entra, irrompe la società esterna ipocrita e che viene a turbare una solitudine e una scoperta di sé totalmente nuova. I giovani sono il futuro, come sottolinea la presidente della Fondazione Teatro. Ecco perché questi incontri ravvicinati con i protagonisti rappresentano un'occasione unica e irripetibile per avvicinare le giovani leve al teatro. E questa mattina, oltre all'incontro qui alla Sala Verdi, ci sono già incontri al Battisti e al Torelli. Più di 300 ragazzi che oggi parlano di Pirandello, di Enrico IV. Ed è il lavoro per il quale noi siamo stati anche chiamati, la formazione di nuovo pubblico, e avere qui studenti e insegnanti a discutere con i protagonisti dell'opera per noi è veramente una cosa molto affascinante ma che ci dà anche soddisfazione per tutto il lavoro che stiamo facendo.